Scatta la missione Grosseto con un'arma in più per Paolo Indiani, la classifica parla chiaro, la formazione Amaranto è obbligata a ripartire dopo il sorpasso subito domenica scorsa ad opera del Pianese. Aspetto da non sottovalutare che contribuisce da una parte ad alzare la posta in palio del campionato che si sapeva ancora non concluso. L'Arezzo ha fatto molto bene finora ma sconta quel problema offensivo che evidenzia delle lacune negli ultimi 25 metri. Contro il Grosseto sono sicuri i ritorni di Trombini, Lazzerini, Pericolini e Gaddini. Intanto Paolo Giovannini non è stato a vedere le stelle ed è corso ai ripari a poche ore dalla ratifica della nomina di membro del Consiglio d'Amministrazione nella seduta che ha approvato il bilancio. Acquistato un giocatore, infatti è stato raggiunto l'accordo con Nicolo Gucci, vecchia conoscenza del calcio di casa nostra, 31 anni, attaccante centrale, originario di Bagno a Ripoli come Gino Bartali. Gucci ha giocato a Figline, Borgo San Lorenzo, Sponda Fortis, Scandici, Pistoiese, Poggi Bonzi, Correggese, Pano Varese, Propatria e in ultimo Vispesano da cui si è svincolato ieri sera. 139 i gol segnati nel corso della sua carriera tra Serie C e Serie D. Un biglietto da visita, niente male.